Sì, siamo a Roma, è il 2012, quasi il 2013. Ma come cazzo mesete questi? Quattro tondi, un beveraggio, sarà un magno a buffet, fa' che io agisca e poi proferirai... Mh, qual viril prode... Chi è costui? Lo portasti qui teco a quel pro, la sua carica esplico orsù, l'adunanza sol teco era duopo... Ma costui? Chi è 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 costui? E sai arduo oggetteco espletar? Scaccialo! Che è costui? Chi 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 è? E' tra il sogno, va in numero tre! Scato! Non mi aggrado! Chi è costrui? Chi è costrui? Dello ricato il suon qual è? Arcano è ciò per tutti ahimè Si narra che si ingozzi Che non possegga cappa Che abbia o denti a guzzi Che sai sovente frigni Ma quando è cheto a sera Qual è il suon di questa fiera? Fiera, fiera Dello ricato il suon qual è? Arcano è ciò per tutti ahimè Sa dira ma non grida Sorvisce un infuso E alquanto assopito E sa via Pessimo raga Fiera, fiera Vai rifamolo Fiera, fiera Eh lo vedi che so a tre Cazzo! Non va a fante la voce noi Non devi ci toccare davvero Cazzo di che? Oh ragazzi Stiamo a Roma È il 2012 Quasi il 2013 Come cazzo che siete visti Ciao, ciao Buona giornata Buon lavoro Buon lavoro Manguri Manguri Buon lavoro Buon lavoro